Portando Gesù, la Madonna porta anche a noi una gioia nuova, piena di significato. Ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i momenti più dolorosi e difficili. Nella solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria, prima di guidare l'Angelus, Papa Francesco ha riflettuto sul Vangelo odierno, la visita della giovane di Nazareth a Elisabetta. A tutti il Pontefice ha ricordato che la madre del Figlio di Dio, modello di virtù e di fede, ci porta la capacità di misericordia per perdonarci, comprenderci, sostenerci gli uni gli altri. Anche attraverso Maria, che oggi contempliamo assunta in cielo a concluso, vediamo il potere dell'umiltà che lascia posto a Dio nella vita delle persone. A Maria, Regina della Pace, che contempliamo oggi nella gloria del Paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrano a causa di calamità naturali, di tensioni sociali o di conflitti. Ottenga la nostra Madre Celeste per tutti, consolazione e un futuro di serenità e di concordia.